Il Centro per lo studio e la cura della sclerosi multipla del Neuromed è considerato uno dei principali punti di riferimento per la comunità scientifica nazionale, ma non solo. Non è un caso dunque che a Pozziglia attualmente vengano seguiti circa 700 pazienti. Il livello di competenza raggiunto dalla struttura molisana permette di beneficiare delle cure più innovative in anticipo rispetto ad altre realtà. Già nei prossimi giorni infatti saranno disponibili tre nuovi farmaci destinati a dare un grande aiuto ai pazienti. Avremo a disposizione a brevissimo almeno tre nuovi farmaci, due farmaci orali, due compresse che quindi oltre all'efficacia associeranno anche una migliore aderenza da parte del paziente. Uno già registrato anche nella nostra regione e con la possibilità di utilizzo già dalla prossima settimana, l'altro a distanza di pochissime settimane credo. Il terzo farmaco è ancora più impegnativo dal punto di vista dell'efficacia perché è straordinariamente efficace, a fronte però di una scelta di tipologia di paziente che deve essere molto molto prudente perché il farmaco è molto potente. L'aspetto ricerca ci basiamo molto di più sulla ricerca clinica di base soprattutto in collaborazione con altri centri per noi storici e amici da sempre con la possibilità quindi di utilizzare anche in anticipo farmaci che poi verranno commercializzati appena dopo. Durante l'incontro organizzato nella clinica di Pozzilli si è focalizzata l'attenzione non solo sulle nuove terapie farmacologiche ma anche sui vantaggi che si ricavano nel trovarsi in prima linea sul fronte della ricerca. Stiamo già utilizzando il Tecfidera così come altri farmaci in arrivo nell'ambito di protocolli sperimentali quindi abbiamo la possibilità di utilizzare questi farmaci già prima della messa in commercio in modo da poterli conoscere e poterli offrire al paziente ancora prima della reale disponibilità commerciale.